Fremono i fan della serie fantasy HBO il tranno di spade su rumors sempre più insistenti. Dopo che Jon Snow è risorto dal mondo dei morti, anche a quanto pare qualcun altro è pronto a tornare sia sul piccolo schermo che nel regno dei vivi. Nell'ultima puntata abbiamo lasciato Red Thoneman alle prese con una difficile alleanza tra fede e corona. L'alto passero sembra aver annebbiato la sua mente e a suo zio o a suo padre è stato ordinato di riconquistare un castello. Cersei non si dà pace in vista del processo per singola artenzone dopo aver percorso il cammino dell'espiazione e aver subito l'umiliazione del suo popolo. A questo punto due sono le ipotesi più accreditate. Per il processo contro il nuovo culto la madre del re chiamerà la montagna Gregor Clegane. Se l'alto passero invece scegliesse il mastino Sandor? Sin dall'inizio il rapporto tra i due fratelli, non proprio idiliaco visto che il primo ha dato fuoco al secondo, è apparso e risolto. Inoltre non abbiamo visto la morte del mastino, che abbiamo invece lasciato agonizzante in mezzo al nulla al termine dello scontro con Brienne di Tart, fedele ad Arya Stark, ora a Sansa e prima ancora a Lady Catherine Stark. A proposito della moglie di Ned, protettore del Nord, arriviamo ad un altro interessantissimo scenario. Nella terza stagione le nozze di Robb Stark si sono rivelate un'immane trappola per lui, la moglie e sua madre Catelyn. Morti ammazzati per mano di Walder Frey, ma una profezia misteriosa presente nel libro e soprattutto un indizio piuttosto sospetto apparso su IMDB, fanno pensare ad un suo imminente ritorno come donna incappocciata, uno zombie assetato di vendetta, salvata grazie alla fratellanza senza vestilli.